Fai tanto il frigo, ma ancora compri al suo mercato, fatta da sola la beciamella. Burro, fallo sciogliere. Per 50 grammi di burro, 50 grammi di farina. Devi goce un po' la farina, così è più digeribile. Spegni tutto, per 50 e 50, 500 ml di latte. Aggiungi il latte, poca volta. Qua c'è il buscoletto, sono diventati i grubi. E ora riaccendi il fuoco. Gira, bolle, spegni tutto. Ora devi fare buona. Sale. A me poca mi piace, non c'è la scala. Io faccio così da ragazzino, e lei mi ricorda nonna. Hai fatto la pasta fatta in casa, hai fatto il ragù fatto da te. Ma vuoi mettere che quando puoi fare questa beciamella è roba tua? Tiè, guarda qua. E te la fai dalla densità che vuoi te.